Per la seconda giornata del torneo di San Bonifacio scendono in campo Juventus e Real Madrid. Entrambe le squadre sono a tre punti in classifica dopo le vittorie della Juventus contro la Pro San Bonifacio per 2-1. E quella di misura del Real Madrid contro il Verona nella giornata di apertura. Subito Real in avanti nei primi minuti, qui il colpo di testa con la parata agevole. Da parte del portiere della Juventus ancora Real in avanti. Qualche istante più tardi sulla corsia di destra lavora un buon pallone. Poi la sfera arriva al centro per il numero 11 della formazione madridista Baisa. Il pallone però viene abbrancato dal portiere della Juventus. Prova a rispondere la formazione bianconera qui con il tiro molto insidioso da parte di Nicolussi. Palla sul fondo, poi ancora Juventus. Qui ci prova Tiam con il destro. Palla sul fondo, siamo al 29esimo. Ancora Juventus pericolosissima. Nel finale qui sembra fatta ma un tempestivo intervento di un difensore del Real Madrid evita il peggio per la formazione spagnola. Ancora Juventus in avvio di secondo tempo. Qui arriva anche la rete ma il direttore di gara ferma tutto per la posizione di fuorigioco sul tiro di Tiam. All'ottavo il Real Madrid ci prova con la conclusione da parte di Algarra. Ancora Real pericoloso al diciassettesimo. Qui il pallone per il numero 11 Baisa che mette incredibilmente fuori da pochi passi. Si salva la Juventus. Real pericoloso in contropiede. Qui ancora il pallone al centro sempre per il numero 11 Baisa. Pallone alto stavolta la Juventus nel finale al venticinquesimo. Una buona occasione con Gertù. Pallone che però calciato debolmente. La parata da parte di Ramos. Poi ancora Juventus pericoloso al trentesimo. Qui in due occasioni non riescono a concludere in porta gli attaccanti biancoeri. Nel finale brivido per la formazione bianconera con l'ottima parata da parte del numero 1 della Juventus. Finisce qui con il risultato di 0-0 tra Juventus e Real Madrid.